segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te esattamente anche qui siamo davanti a una riforma costituzionale quella sul premierato che appunto vorrebbe regalare agli italiani un uomo una donna forte al comando e quello di cui abbiamo bisogno beppe severnini no non adesso certamente oltretutto l'ho ascoltata diceva non avremo più governi tecnici vorrei ricordare alla nostra premier e in generale alla politica di ogni colore che i governi tecnici monti 2011 draghi 2021 sono arrivati per togliere le castagne dal fuoco dove erano finite per colpa della politica due volte eravamo nei guai tutte e due le volte per cominciare poi veramente non capisco abbiamo due guerre in corso d'accordo abbiamo un'economia in difficoltà abbiamo una situazione anche di cambiamenti climatici vediamo le tragedie in queste ore in italia in questi giorni allora è veramente la cosa più urgente da fare quando uno ha preso i voti come giorgia meloni sta governando che faccia bene o meno bene dipende da lei dal suo governo non è che ci sia qualcuno che vuole farla cadere quindi le debolezze del passato erano dovute al fatto che erano governi raccoglitici allora questo è il punto fondamentale io veramente non capisco sembra quasi che quando qualcuno arriva a palazzo chigi a un certo punto si eccita se le cose vanno bene la sinistra nel 2000 è arrivata la riforma del titolo quinto nel 2001 mica una grande idea pure quella renzi 2016 giusto allora vuol fare la riforma pure lui quando uno si sente forte si eccita ma riforma costituzionale fate altro uscite la sera guardate un film non la riforma costituzionale abbiamo un sacco di problemi adesso allora prima voglio sentire anna falcone poi ti do la parola vedo par